create a new broadcast ok buonasera a tutti eccoci finalmente siamo in diretta dal centro ripomonti di Cusano Milanino le attività della giornata si sono concluse da poco e possiamo finalmente presentare il centro in diretta un progetto e un'idea dell'equip di metterci a disposizione a turno gli professionisti dell'equip per dare dei consigli utili soprattutto in questo caso ai genitori in tempi e momenti così difficili io sono Davide Ferrazzi mi occupo di coaching educativo e metodologico per le difficoltà di apprendimento e disturbi di apprendimento e di innovazione digitale ed è per questo che questa sera ho accettato con grande piacere l'invito a fare da intervistatore con due delle esperte logopediste delle 12 logopediste che fanno parte oggi dell'equip del centro ripomonti che proseguono il lavoro avviato più di 30 anni fa dalla nostra fondatrice itala riccardi ripomonti che ci sta ascoltando e che ringraziamo e salutiamo e equip che oggi è arrivata a 32 elementi e nelle prossime puntate raccoglieremo il contributo di tutti quindi a nome di tutti noi vi do il benvenuto sia a chi ci sta seguendo su facebook sia a chi ci sta seguendo su youtube chi vedrà poi la puntata indifferita o l'ascolterà tramite i canali podcast a questo punto non mi resta che presentarvi anche le colleghe quindi abbiamo donatella antonicelli ecco il suo nickname stasera e poi abbiamo cristina marrone logo cri esatto buonasera a tutti eccoci in questa prima puntata affrontiamo una fase molto importante dello sviluppo dei nostri bambini e che è quella dello sviluppo del linguaggio nella fase 0 3 e quindi cercheremo prima di capire un pochettino quali sono le tappe anche per chi di noi non è esperto e poi di capire che cosa osservare se ci sono dei segnali di rischio o anche semplicemente dei consigli di cose da fare o cose da evitare in questa fascia d'età per cui do la parola subito a logo dona ed entriamo nel vivo della serata grazie grazie a te davide allora buonasera a tutti parleremo quindi come vi è stato già anticipato di sviluppo del linguaggio nella primissima fase 0 3 anni è un processo assolutamente di crescita che avviene in modo naturale fisiologico ma con dei tempi diversi che dipenderanno dai modi di apprendimento e dalle strategie di apprendimento di ciascun bambino quindi può capitare che le famiglie si facciano delle domande sul corretto sviluppo del linguaggio dei loro bambini o che abbiano dei dubbi sulla corretta evoluzione o che non sappiano vedere quali sono i segnali di rischio dei campanelli d'allarme proprio perché c'è questa alta variabilità e da qui deriva la nostra necessità appunto di fare un quadro un po' più generale di quelle che sono le tappe principali e la necessità quindi di informarvi su quali sono i segnali di rischio che possono portarvi a un primo consulto ma anche darvi dei consigli su come sollecitare lo sviluppo lo sviluppo del linguaggio avviene da subito nella fascia 0 6 mesi ci sono le prime cose fondamentali il bambino fin dai primi giorni di vita mostra un interesse spiccato per le voci e suoni che lo circondano quindi rumori suoni ma voci di mamma e papà mostrando dell'interesse anche voltando lo sguardo e successivamente la testolina quindi è molto importante parlargli fin dai primi giorni di vita fin nella fase dell'allattamento sia al seno che col biberon è assolutamente fondamentale quindi parlando al vostro bambino voi porrete quelle che sono le basi per la corretta acquisizione del linguaggio quindi attenzione è assolutamente fondamentale inoltre quello che fa oltre ad ascoltare fin dai primi giorni di vita è appunto succhiare la suzione è assolutamente fondamentale perché il bambino comincia a fare una vera e propria ginnastica dei muscoli del volto della lingua che porranno le basi ad una corretta articolazione quindi è la corretta produzione delle parole di suoni prima e di parole poi verso i tre mesi vedrete che il bambino comincerà a ciucciare sempre più spesso le sue manine l'angolo del pigiamino questo è proprio il primo approccio al mondo lasciateglielo fare quindi fate in modo che la bocca del vostro bambino non sia sempre impegnata dal ciuccio altrimenti queste esperienze non potrà farle verso i sei mesi compariranno i primi dentini anche un po prima per alcuni bambini e vedrete che avranno sempre la tendenza sempre di più a mordere a portare tutto in bocca fondamentale anche questo mettete a disposizione del vostro bambino oggetti di plastica di silicone di stoffa perché come ripeto è il primo approccio al mondo e non solo attraverso il masticare consistenze diverse e quindi successivamente o in contemporanea anche con lo svezzamento il bambino comincerà ad attivare quegli stessi movimenti che usava per la suzione anche su consistenze diverse quindi anche qui è fondamentale che questa conoscenza del mondo avvenga nel modo assolutamente più naturale possibile una cosa fondamentale che avviene verso i sei mesi è la lallazione vedrete che inizialmente il bambino si esprime solo attraverso il pianto un pianto prima sempre uguale poi pianti diversi a seconda dei suoi bisogni ma poi comincerà a tirare fuori ad emettere dei gorgogli che diventeranno poi suoni veri e propri che attenzione non sono vere e proprie parole non sono parole ma ripetizioni sempre uguali di sillabe consonante vocale che si ripeterà ci aiuti con un esempio assolutamente si comincerà a produrre consonanti suoni come da 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 di di solito il suono d è il primo che viene prodotto proprio per la vicinanza di lingue palato ma oltre a da 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 bababà papà mamma sono suoni che non hanno inizialmente un'intenzionalità comunicativa e non sono parole ma hanno un'intonazione molto simile a quella dell'adulto cogliete voi adulti genitori nonni che lo circondate l'occasione per ripetere queste sequenze di sillabe create proprio delle vere e proprie conversazioni col vostro bambino perché porrete così le basi per il corretto sviluppo il bambino avrà piacere ad ascoltarsi avrà piacere a vedere le vostre reazioni che ci saranno dopo la produzione di questi suoni suoni che inizialmente saranno sempre gli stessi ma che pian piano vedrete diventeranno sempre più complessi quindi da 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 papà cominceranno a produrre suoni sempre diversi e magari non uguali ma da pa pa la e qui che noi adulti dobbiamo cogliere l'occasione per dire palla hai detto palla e mostrargliela perché è così che dalla l'azione normale canonica alla l'azione più variata si passerà alle prime parole attenzione un passaggio fondamentale nel momento in cui verso i dodici mesi compaiono quindi le prime parole dopo questo allenamento di suoni con inizialmente ripeto non intenzionalità comunicativa e con intenzionalità poi cogliete l'occasione di ripetere la parola del bambino che ha appena detto e create delle vere proprie conversazioni molto semplici su quelli che sono gli interessi del bambino è il momento questo di cominciare anche a leggere dei libri con lui molto importante perché attraverso la lettura condivisa create appunto una condivisione di interessi una ripetizione di parole a lui familiari un'indicazione di immagini su un libro e ce ne sono tantissimi a questa età di libri con pagine cartonate o di gomma con i colori con azioni che ripropongono le routine della giornata o espressioni del volto del bambino dove il bambino può riconoscersi e nel frattempo ascoltare delle parole che diventeranno per lui sempre più familiari e tenderà a ripetere d'accordo spero di essere stata chiara finora mi raccomando in questa fase non anticipate mai il bambino aspettate che sia lui a dire delle parole per esprimere i propri pensieri non anticipatelo dategli il tempo di trovare il suono giusto la parola giusta e assolutamente non correggetelo quello che l'adulto può fare in questo in questa fase fondamentale di sviluppo è ripetere la parola per il bambino nel modo corretto perché saremo sempre noi il modello del bambino è assolutamente importante in questa fase spesso i bambini non parlano bene passatemi il termine fanno degli errori e alcuni adulti o anche i fratelli maggiori usano parlare il bambinese passatemi il termine quindi parlare un po' come parla il fratellino piccolo come parla il bambino è un errore questo non va fatto perché il linguaggio si apprende per imitazione quindi il bambino imita il nostro modello corretto importantissimo questo non correggetelo d'accordo descrivete sempre in maniera corretta quello che fa quello che vuole dire e vedrete che tra i 18 e i 24 mesi si disincentiveranno eh tutte le eh i tentativi di comunicazione attraverso l'indicazione e i gesti che fino a quel momento sono stati fondamentali e hanno accompagnato le parole il bambino attenzione comprende sempre più di quello che voi pensiate sicuramente comprende più di quello che dice ed è fondamentale eh andare a stimolare anche questa capacità di comprensione quindi fate delle domande eh perché a quest' epoca ripeto 18-24 mesi il bambino mh riesce a eseguire ordini semplici a indicare parti del corpo su se stesso e sull'altro e a rispondere a domande introdotte ad esempio dal dove da chi dai 18 mesi se questa stimolazione è stata adeguata si assiste alla quella che noi chiamiamo esplosione del vocabolario quindi dalle prime parole eh arriviamo dai 18 verso i 24 mesi con un'esplosione di parole il bambino conosce sempre più parole fino ad arrivare a un tetto di circa 200 parole ed è lì che il bambino riuscirà a esprimere i propri pensieri o con un'unica parola o con la combinazione di due tre parole tra loro quindi semplici frasi non complete ma eh frasi che esprimono esattamente quello che lui pensa o quello che vuoi vuole dire esempi di queste frasi possono essere ad esempio pappa più se non vuole più mangiare etto gatto questo è il gatto quindi combinazioni di parole tra loro attenzione una cosa che secondo me è speciale e che in quest'epoca c'è già una concordanza tra nome e aggettivo il bambino tenderà a dire mamma bella e non mamma bello d'accordo quindi le sue abilità linguistiche migliorano e diventano sempre più complesse in un modo molto 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 veloce eh consiglio sempre quello di fornire voi il modello corretto per il bambino non chiedete di ripetere anche perché in questa fase non ne avrebbe gli strumenti quindi andreste a rompere quello che è il turno di conversazione tra voi e il vostro bambino e rischiereste anche di frustrarlo in un certo modo se non ha uno strumento diverso per dire determinate parole mi raccomando in questa fase 24 mesi esplosione del vocabolario cominciate a togliere il ciuccio perché 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 se il bambino parla col ciuccio in bocca assumerà delle posizioni della lingua sbagliate e c'è il rischio che queste posizioni diventino poi eh fisse e lui si abitui a parlare in un modo scorretto ehm quindi eh attenzione alla ripetizione eh delle frasi e del pensiero completo eh se questa stimolazione è stata fatta e avvenuta in un modo adeguato vedrete che tra i 30 e i 36 mesi i bambini produrranno sempre più frasi semplici o complesse ancora incomplete all'inizio cosa vuol dire che mancano tutti quei connettivi tra le frasi articoli preposizioni pronomi ed è anche in questa fase qui che noi adulti dobbiamo provare a ripetere la frase del bambino se abbiamo capito quello che lui vuole dire nel modo corretto andando a riempire gli spazi vuoti che il bambino ha lasciato ehm le frasi saranno sempre più complesse il bambino verso i 30 mesi riuscirà a parlare di cose non solo presenti ma appena passate prima ho mangiato e riuscirà a mettere in collegato in collegamento gli eventi tra loro quindi riesce a fare delle cose eh meravigliose splendide entro i 30 mesi e e successivamente nei 36 mesi se pensiamo che a 36 mesi quindi a tre anni lo sviluppo della morfosintassi quindi lo sviluppo della struttura della frase è praticamente completa quindi riassumendo ehm la il concetto fondamentale che voglio passarvi è parlate tanto col vostro bambino stimolatelo tanto nel parlare e non pretendere che lui risponda con parole perché il fatto di creare una intenzionalità comunicativa e eh ampliare la sua comprensione è fondamentale per la produzione successiva di parole di frasi quindi ci sono delle tappe fondamentali che devono essere eh a cui il bambino deve arrivare anche se l'età è abbastanza variabile ripeto non è uno sviluppo rigido ma alcune fasce d'età devono essere rispettate quindi l'allazione entro i 6-8 mesi prime parole a 12 comparsa delle prime frasi verso i 24 mesi con l'esplosione del vocabolario e tra i 24 e 36 c'è un allenamento continuo di questa produzione delle frasi eh che arriva poi alla conclusione della dello sviluppo morfosintattico e spero di essere stata chiara e ora passo la parola Cristina eh grazie eh grazie logodona nell'ascoltarti sono stato anche sgamato forse anche gli zii fanno ogni tanto alcuni di quegli errori mi sembra molto molto importante anche eh che tu abbia evidenziato come proprio tutte le fasi eh dello sviluppo del bambino eh in qualche modo c'entrano e sono collegate anche con la dimensione del linguaggio penso sarà interessante poi coinvolgere in altre puntate anche le colleghe psicomotriciste musicoterapiste per capire eh da diversi sguardi eh questo questo ambito quindi adesso diamo la parola a Logo Cri per capire quali eventuali rischi ma anche quali altri errori evitare eh in in questa fase che cosa fare esatto esatto eccomi qui grazie Dona grazie perché con la teoria ci hai steso effettivamente adesso con questa grandi questo grandissimo bagaglio teorico quello che noi andiamo a cercare di fare nei prossimi dieci minuti è capire quelli che possono essere i campanelli d'allarme e che possono far dire ad un genitore forse il linguaggio non sta evolvendo nella maniera corretta secondo dei tempi fisiologici anzitutto teniamo sullo sfondo l'ampia variabilità individuale che significa come diceva poco fa Logodona ogni bambino comunque all'interno di questa fascia d'età 036 ha i suoi tempi che vanno rispettati questo non significa che il mio bambino non arriverà a dire quella parola se ha 12 mesi non ce l'ha significa che magari dobbiamo stare ad osservarlo o a stimolarlo in maniera un pochino più mirata rispetto ad alcuni target e anche qui vi voglio dare un'indicazione importantissima secondo noi che è quella di chiedere consiglio nel caso di dubbi nel caso di incertezze nel caso di uno sviluppo che non vi pare lineare in primis al vostro pediatra il pediatra di famiglia è il riferimento primo di ogni genitore è il primo medico che fa il bilancio di salute ai bambini appena tornati a casa ed è poi il medico che segue ovviamente i pediatri fanno spesso delle visite che sono un po' veloci perché hanno tanti bimbi se vi viene comunque il dubbio rispetto all'evoluzione del linguaggio rivolgete domande dirette ai vostri pediatri fate presente che vi sia insinuato il dubbio rispetto a qualcosa che non vi convince un'altra indicazione importante è quella di chiedere anche se il vostro bambino frequenta per esempio l'asilo nido consiglio all'educatrice e gli educatori che quotidianamente si occupano di lui perché sapranno darvi delle indicazioni che sono riferite al vostro bambino all'interno di una comunità il vostro bambino rispetto agli altri e con gli altri come si comporta come si regola nel gioco come comunica con i coetanei sono dati importanti spesso se il bambino è uno in famiglia è difficile vedere il rapporto con i coetanei se non ci sono ancora fratellini o sorelline magari i cuginetti abitano lontano di questi tempi poi effettivamente ci si vede anche meno purtroppo per via della condizione che stiamo vivendo per cui laddove i bimbi vanno i bimbi così piccolini frequentano magari il nido le educatrici con un occhio attento sapranno dirvi che cosa sta andando e che cosa no quindi tenendo sullo sfondo questi concetti andiamo adesso a vedere quando allarmarci anzitutto in un bambino piccolino e per piccolino io intendo sotto l'anno di età lasciamo che ci si accenda un campanello d'allarme se non si gira quando lo chiamiamo non risponde al nome diceva logodona tra i sei gli otto e dieci mesi i bambini rispondono ai rumori in casa ai richiami rispondono ai suoni si girano se sentono una cosa che non gli è familiare per capire cosa succede se vi accorgete che gli stimoli sonori non sono così significativi per il vostro bambino andate a fondo non lasciate che questa cosa passi come non gli interessa è distratto oppure attratto da altro importante anche qui che il bambino risponda al proprio nome per cui che impari a riconoscere sonoriamente il proprio nome quindi quel suono è il nome e quindi inizi a girarsi ovviamente la comunicazione verbale è preceduta dalla comunicazione gestuale qui le colleghe neuropsicomotriciste musicoterapiste ci sapranno aiutare tantissimo perché lo sviluppo gestuale sta alla base della comunicazione verbale un gesto su tutti che è il gesto su cui noi facciamo un attimo attenzione stasera è il gesto dell'indicare quando i bambini iniziano intorno all'anno di età a indicare qualcosa di esterno loro a porre l'attenzione su qualcosa che è esterno loro stessi escono da loro e ci indicano qualcosa di altro per richiamare la nostra attenzione su qualcosa è il loro modo di chiamarci se ancora verbalmente non lo sanno fare lo fanno a livello gestuale per cui andranno a indicare qualcosa e a chiederci di condividere l'attenzione logo donaci ci raccontava poco fa condividere l'attenzione vuol dire guardare insieme un libro per esempio cioè guardare insieme a un elemento esterno creare una triade un triangolo noi il nostro bambino e un oggetto esterno una persona esterna per cui un'entità al di fuori del nostro binomio noi e il nostro bambino che ci serva per virare l'attenzione focalizzare l'attenzione su un'altra cosa e quindi cambiare il focus attentivo se anche qui vi accorgete che non vi è interesse che c'è una comunicazione gestuale scarsa quindi vi accorgete che il vostro bambino non è solito richiamare l'attenzione neanche con dei gesti neanche tirandovi neanche indicando o vi accorgete che non gradisce per esempio condividere insieme l'attenzione su un gioco su un libro su un oggetto lasciate che si accenda un campanellino d'allarme osservatelo con attenzione perché è un indicatore di rischio ok siamo arrivati quindi intorno ai 12 mesi epoca in cui compaiono anche le prime sonorità che assomigliano chiaramente a delle parole finalmente parole dotate di significato quindi mamma papà le prime acqua papà hanno un significato non sono più suoni assemblati per sperimentare l'organo fonatorio la bocca ma sono parole finalmente che veicolano un significato ovviamente intorno ai 12 mesi le paroline sono poche qualcuno ce ne ha di più qualche compagnetto magari un po più avanti ma l'altro figlio me ne diceva qualcuna in più state comunque a guardare perché veramente le paroline a partire dai 12 mesi inizieranno ad arrivare numerose se così non dovesse essere dobbiamo accendere un altro campanello d'allarme perché l'esplosione del vocabolario a cui poi arriveremo a 24 cioè a due anni è data da una progressione per cui non aspettiamoci che dai 23 ai 24 mesi una mattina il nostro bimbo si sveglia e ci dice 125 parole sarebbe meraviglioso ma non è così ma dai 12 ai 24 i nostri bambini cominceranno ad arricchire il bagaglio lessicale immaginatelo come una valigia il nostro bimbetto si porta sempre bimbetto bimbetta si portano sempre dietro una valigetta piena di parole che iniziano ad assumere significato grazie grazie all'esperienza grazie all'ambiente grazie ai genitori se questa valigetta non si riempie gradualmente non si potrà riempire di colpo subito a 24 a 28 a 30 mesi dovremo osservare che piano piano il numero di parole vada aumentando ok cosa assolutamente importante ecco logo cri mi viene un dubbio ma i genitori e i familiari devono tenere traccia in qualche modo di di questa progressione allora io direi che non vi è necessità di tenere traccia se non si osserva un rallentamento per cui val la pena di cominciare a osservare la quantità di parole e quindi tenere traccia segnare magari su un piccolo taccuino se vi accorgete che arriva una parola ogni due mesi una parola nuova ogni due mesi acquisita e quindi non solo compresa ma utilizzata è un po pochino per cui se proprio vi accorgete che qualcosa sta rallentando sta proprio frenando questa evoluzione ok poi chiaramente qualcuno tiene quei bei diari qualche genitore magari che un po meno tempo si annota su un foglietto attacca sul frigo però ecco tenere traccia sicuramente aiuta la memoria questo di sicuro lo confermo rispetto poi alla fase successiva cosa succede succede che dobbiamo sempre ricordarci che la comprensione sta alla base della produzione per cui cosa significa questo significa che se il nostro bambino non è in grado di comprendere quello che lo circonda e non è in grado di comprendere il linguaggio verbale di certo non saprà utilizzare il linguaggio verbale in maniera così sciolta cosa significa questo significa che se il mio bambino non comprende che io ho chiesto di prendere il pupazzo rosso che sta nel cesto in camera di sicuro lui non potrà mai chiedere al fratellino o chiedere a me di prendere il pupazzo rosso nel cesto perché si trova ancora a dover decifrare il messaggio quindi se vi accorgete anche qui stiamo parlando io direi logodona 18 mesi 12 18 siamo tra l'anno e il primo e il secondo anno di vita che la comprensione del linguaggio non è puntuale cioè il vostro bambino fatica a comprendere quando voi vi parlate e non facciamo l'errore di dire pigro non facciamo l'errore di dire non mi sta ascoltando perché ci sono non posso nominare i cartoni animati in tv non faccio io lo stavo per fare non facciamo questo errore perché il nostro bambino potrebbe essere distratto potrebbe essere che sta facendo un gioco meraviglioso ma potrebbe anche essere che effettivamente non ha capito cosa gli abbiamo cosa gli abbiamo detto non ha compreso per cui si nasconde dall'interno all'interno del suo gioco dove lui comunque sta comprensione del linguaggio vuol dire non comprende semplici consegne fa faticare i conosceri colori a nominarli non riesce a comprendere a giocare quelle parti del corpo questi sono segnali di comprensione quindi attenzione se vi accorgete che comprensione non procede in maniera fluida lasciamo che si accenda anche qua una una lampadina rispetto al dubbio a questo punto siamo arrivati ai 24 mesi per farla brevissima perché ho forato 24 mesi esplosione del vocabolario succede che se non abbiamo abbastanza parole nella nostra valigetta il bambino non sarà in grado di comporre le prime frasi per cui se ancora a due anni i vostri bimbi due anni due anni e mezzo ok ci addentriamo nella fascia dai due ai tre dai 24 ai 36 non sono presenti combinatorie le prime combinatorie le prime frasi lasciate che si accenna un campanello d'allarme anche qua perché perché le prime frasi comunque sono possibili solo se abbiamo un bagaglio lessicale abbastanza corposo cioè un numero di parole che permette al nostro bambino di mettere insieme e comunicare un messaggio veicolare un messaggio direi che sui campanelli d'allarme abbiamo fatto un viaggio velocissimo ovviamente si aprono molte parentesi le colleghe neuropsicomotriciste ci aiuteranno musicoterapiste ci aiuteranno in questa fascia d'età che è una fascia dove lo sviluppo senso motorio lo sviluppo gestuale fondamentale accompagna il linguaggio in maniera imprescindibile le colleghe logo sono al lavoro per voi per fare un approfondimento sulla lettura condivisa e sull'utilizzo dei libri perché riteniamo che siano uno strumento potentissimo nel supportare l'evoluzione del linguaggio che cosa dire in conclusione sicuramente il concetto della precocità dell'intervento nel momento in cui viene un dubbio si accende un campanello il genitore si rivolge allo specialista di riferimento prima si interviene sulla sollecitazione del linguaggio e si identifica il tipo di difficoltà che c'è perché ovviamente c'è tutto un corollario di difficoltà che si aprono quando il linguaggio non evolve può essere per diverse ragioni diciamo che permette la diagnosi precoce ci permette di intervenire precocemente e quindi di iniziare presto iniziare presto con la sollecitazione e poi l'altro ragionamento che vi sembrerà un po' prematuro perché parliamo di 036 è il ragionamento sulla sulla carriera scolastica cioè una difficoltà di linguaggio ha comunque a lungo andare delle ripercussioni scolastiche potrebbe avere delle ripercussioni scolastiche per cui spesso capita che i bimbi arrivino a cinque anni e mezzo per il trattamento cinque anni e mezzo vuol dire che da lì a breve inizieranno la scuola primaria e il tempo di lavoro prima della scuola primaria è un po' pochino per cui non pensi la scuola è lontana è ovviamente da 0 a 36 ora che arrivano i sei anni abbiamo tutta la scuola dell'infanzia dove collaborare con le insegnanti della scuola dell'infanzia e strutturare un intervento riabilitativo con i fiocchi però dall'altra parte veramente teniamo sempre a mente questa visione prospettica perché il nostro bambino avrà un futuro anche scolastico dovrà imparare a leggere dovrà imparare a scrivere e questo si fonda sul linguaggio anche perché scusami Cristina se ti interrompo abbiamo detto che entro 36 mesi lo sviluppo del linguaggio quantomeno della strutturazione della frase è completo quello che avviene prima dell'ingresso alla scuola elementare quindi dai tre ai sei quindi tutta la fascia d'età di scuola materna è affinare queste abilità che sono già state acquisite aumentare il vocabolario non ci si può ritrovare all'ingresso della scuola elementare con tutte queste cose da fare oltre l'apprendimento della letto scrittura per questo l'intervento precoce è fondamentale per lasciare poi le giuste risorse attentive di fatica sulla letto scrittura il linguaggio ormai è stato appreso altrimenti è tardi abbiamo ragionato tanto capite c'è un mondo dietro c'è un mondo che piano piano costruiremo insieme quando in quella in quell'approccio in cui coach ferrazi ci ha imbrogliato mandando in diretta una cosa che non doveva mandare parlavamo di viaggio c'è l'idea è proprio questa e abbiamo davanti tutto un mondo da andare a scandagliare e lo faremo veramente insieme all'equip grazie mille io penso sia anche molto importante questo messaggio magari qualcuno può pensare ma allora mi devo preoccupare tanto mi devo preoccupare poco qui l'idea se ho capito bene è proprio quella di avere chiara l'importanza di questa fase di questo momento che non è il caso di aspettare ma non per preoccuparsi drammatizzare o medicalizzare qualsiasi cosa ma chiedere un parere esperto al momento giusto può rimettere in moto o andare ad attivare un intervento o anche semplicemente rimandarvi a casa sentendovi dire non si preoccupi siamo però ecco se avete il dubbio mi pare di poter riassumere dall'intervento di questa sera è chiedete chiedete oggi le conoscenze le professionalità che si occupano di questo ambito sono tante quindi abbiamo sentito interlocutori che vanno dal pediatra alle educatrici fino a le esperte come voi di questa tematica molto molto bene a questo punto continuate a seguirci in modo da essere informati tramite i nostri canali social delle prossime dirette videopillole adesso per ogni argomento cercheremo di costruire qualcosa poi di utile e fruibile per tutti grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta i video rimangono sia su facebook che su youtube e tra una mezz'ora saranno disponibili anche sui canali podcast in solo audio ringrazio tutte quante le colleghe e colleghi del centro che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando in questo lavoro e tutti voi che ci avete seguito quindi salutiamo tutti e arrivederci a presto grazie mille grazie buona serata